Eccoci pronti per parlare di cose molto interessanti in questi appuntamenti che avremo con Grandi e Piccini. Vi spiego, Grandi e Piccini è un'azienda che offre dei servizi, ma per parlare di quello che offre, che cosa offrono a tutti voi, abbiamo con noi uno dei titolari che insieme a Giovanna si occupa ovviamente di questa azienda. Parliamo di Enzo che abbiamo al telefono. Enzo, buongiorno. Sì, buongiorno, eccoci qua. Allora Enzo, innanzitutto Grandi e Piccini, servizi per tutti, questo è il nome completo della tua azienda, ma cerchiamo di capire innanzitutto come ti è venuta l'idea di creare questa azienda. È venuta parlando con un amico. Un amico aveva bisogno di una persona di fiducia per la cura della madre e della nonna, ma ha chiesto se conoscevo appunto qualcuno, qualcuno che avessi esperienza e facesse questo messaggio col cuore. Io da parte mia ero stufo di fare il dipendente e quindi eccoci qua. Che cosa offre Grandi e Piccini? Quali sono i servizi in generale? Diamo un quadro dei servizi che offrite alla gente. Noi siamo una società che operiamo in Milano e provincia. Siamo appunto, come detto te, due giovani imprenditori, io e la mia compagna Giovanna. Noi facciamo vari servizi, servizi della badante, servizi della corsa, della babysittery, il tutto fare, l'accompagnatore per gite fuori porta, le file a sportelli pubblici e personal trainer. E in più a breve attiviamo anche le corsi, corsi per collaboratori e corsi per studenti. Quindi insomma un servizio, devo dire, a 360 gradi, anzi con delle novità, perché per esempio quella della file a sportelli pubblici, molte persone magari non riescono o per lavoro o per impossibilità, magari per malattia, per qualsiasi motivo non riescono a fare per esempio una cosa del genere e c'è anche questa possibilità. Poi comunque, io lo dico a chi ci sta ascoltando, nelle prossime settimane con Enzo, entreremo poi nei particolari, quindi andremo a vedere ognuno di questi servizi uno per uno, in modo da farvi capire ancora meglio come funziona. Intanto io vi rimando al loro sito, così intanto andate a dare un'occhiata meglio a quali sono questi servizi. Il sito è www.grandiepiciniservices.it e lì trovate naturalmente anche il numero di telefono, mail e tutto quanto, insomma, per poter avere più informazioni. Intanto noi vi racconteremo un po' di questa storia di Enzo e Giovanna durante questi spuntamenti. Enzo, per il momento la chiudiamo qui, ma naturalmente poi da settimana prossima cominceremo, come dicevo, a entrare nei particolari. Intanto ti ringrazio e buon lavoro. Grazie, grazie mille e ci vediamo presto. Ciao, buona giornata.